Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando della crisi idrica che da mesi ormai attanaglia la Sicilia e le ultime piogge non sono bastate e allora a Palermo è stato esteso il piano di razionamento dell'acqua e sono state coinvolte altre 100.000 persone. Andiamo a vedere i dettagli nel nostro servizio. A partire dal prossimo 2 dicembre AMAP estenderà il piano di razionamento dell'erogazione idrica nella città di Palermo. Le ultime piogge infatti non hanno determinato accumuli produttivi negli invasi i cui livelli continuano a ridursi per effetto dei prelievi dice l'azienda dell'acqua palermitana. A metà novembre è stata registrata una riduzione delle riserve superiore al 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche le rese di sorgenti e corsi d'acqua stanno raggiungendo valori paragonabili ai minimi storici. Le misure di razionamento finora adottate hanno consentito un risparmio medio di circa 65 litri al secondo contribuendo a spostare in avanti la data in cui si potrebbe verificare l'esaurimento delle risorse degli invasi. Per tale motivazione, spiega AMAP, con la cabina di regia per l'emergenza idrica e con l'amministrazione comunale di Palermo, è stato concordato di estendere ad altre zone della città il piano di razionamento già attivato dal mese di ottobre, coinvolgendo una ulteriore porzione di popolazione di circa 100.000 abitanti. Questi si aggiungono ai quasi 150.000 utenti già coinvolti nel piano attualmente in vigore. Di fatto, dal 2 dicembre, saranno 250.000 gli utenti sottoposti al razionamento idrico. Le nuove misure di limitazione interesseranno principalmente i distretti centro-settentrionali della città. Almeno per il momento non saranno interessate le zone centrali in cui sono ubicate le grandi utenze pubbliche, ospedali, cliniche, case circondariali e stazioni ferroviarie in cui permangono comunque adeguate riduzioni delle pressioni. Parliamo adesso di ambiente, nello specifico di inquinamento, di corsi d'acqua. Grazie al lavoro di associazioni e volontari sono stati infatti rimossi quintali di rifiuti, quintali di plastica dalle foci di fiumi e torrenti siciliani. Dunque prosegue questa importante campagna di sensibilizzazione. Vediamo il servizio. Continua con successo la campagna di sensibilizzazione per la rimozione di plastica dalle foci di fiumi e torrenti della Sicilia, avviata dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana e supportata dal Ministero dell'Ambiente. Grazie all'intervento sul campo delle associazioni di volontari sono già stati raccolti diversi quintali di rifiuti e sono state installate delle barriere blocca plastica così come previsto dalla legge nazionale salvamare. Solo una rete attiva tra istituzioni, associazioni e società di smaltimento può garantire dei risultati, ha dichiarato Leonardo Santoro, segretario generale dell'autorità di bacino, ma occorre aumentare la sensibilità di tutti verso la riduzione dell'uso delle plastiche, un materiale che sta sconvolgendo l'ecosistema. Un ringraziamento e un plauso vanno sicuramente ai volontari, ai docenti che stanno coinvolgendo tantissimi studenti delle scuole e ai moltissimi comuni siciliani che stanno supportando concretamente questa operazione, ha concluso Santoro. A collaborare con l'iniziativa dell'autorità di bacino sono le associazioni Guardia Marina Nazionale, Marevivo, Libera Ambiente, Lega Ambiente, Circolo Mesogeo, Parco Fluviale dell'Alcantara e Giva. Cronaca da Ispica, siamo nel Ragusano, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti con l'intervento dei carabinieri che ha portato all'arresto di un pusher, si tratta di una 32enne trovato in possesso all'interno della propria abitazione di cocaina e marijuana, sostanze ovviamente pronte per essere spacciate. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Modica hanno tratto in arresto per la violazione della normativa inerente agli stupefacenti un 32enne ispicese già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali. La costanza dell'attività di contrasto allo spaccio di droga nel territorio di competenza ha portato gli uomini dell'arma a effettuare un'attività di perquisizione sugli obiettivi sensibili gravitanti nell'abitato di Ispica. Non a caso, all'esterno di un noto bar della tranquilla cittadina, gli operanti si sono imbattuti in un soggetto che alla loro vista ha mostrato una certa insofferenza. Il controllo che ne è scaturito ha portato al rinvenimento all'interno della sua abitazione di 15 grammi di cocaina e 50 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante e materiale atto alla partizione della sostanza. Tutto il materiale ovviamente è stato sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri. L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, è stato invece ristretto ai domiciliari. L'arma di Modica proseguirà i controlli sul territorio finalizzati alla repressione di un fenomeno che desta particolare preoccupazione, soprattutto tra le mura domestiche. Da Ispica ci spostiamo virtualmente a Vittoria, siamo dunque ancora nel Ragusano. Un altro arresto effettuato sempre dai carabinieri si tratta di un soggetto condotto poi in carcere e accusato di un furto in abitazione commesso nel 2020. Vediamo il servizio. Continua senza sosta l'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio da parte del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, anche al fine di garantire la corretta esecuzione dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria. Nello specifico, i militari della stazione di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di un cittadino vittoriese. La misura eseguita trae origine da reati contro il patrimonio cui si era reso autore l'uomo, in particolare un furto in abitazione commesso a Vittoria nell'agosto del 2020. I carabinieri, ricevuta la misura restrittiva dall'autorità giudiziaria, si sono immediatamente attivati per rintracciare il soggetto, riuscendo a individuarlo in una via limitrofa alla stessa caserma di Vittoria. I militari, dopo averlo identificato compiutamente, lo hanno arrestato e condotto presso i loro uffici per notificargli l'ordine per la carcerazione. Terminate le formalità di rito, l'uomo è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove permarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria per espiare una pena residua di poco più di dieci mesi di reclusione. Cambiamo argomento, siamo entrati nel periodo del cosiddetto Black Friday con la possibilità di fare degli acquisti a prezzi scontati, ma aumentano però le truffe online, aumentano del 25% tra email false e offerte ingannevoli. Allora vediamo alcuni consigli per proteggersi. Con l'avvio del Black Friday aumentano del 25% le minacce informatiche. Le truffe più diffuse vedono malintenzionati spacciarsi per grandi piattaforme commerciali, banche e rivenditori di tecnologia. Lo segnalano i ricercatori della società di sicurezza Casper Sky in occasione dell'appuntamento mondiale degli acquisti online scontati. Tra i metodi più usati, secondo i ricercatori, l'invio di false email con sconti esclusivi che sono un pretesto per reindirizzare le vittime su siti web falsi. Un'altra truffa comune sfrutta il desiderio degli utenti di vincere premi. I criminali infatti inviano messaggi che promuovono sondaggi online a tempo con estrazioni di premi, offrendo ricompense di valore come ad esempio smartphone gratuiti. Lo scopo finale è sottrarre soldi o dati personali. Gli esperti hanno ricostruito i passaggi delle attività fraudolente, rilevando che i dati rubati vengono utilizzati direttamente dai truffatori o venduti nei mercati del dark web. Il prezzo di questi dati varia in base a completezza e valore. I set completi di dati di carte di credito, ad esempio, vengono venduti a prezzi che vanno dai 70 ai 315 dollari. Secondo Kasper Sky, nel 2024, in generale, i cybercriminali hanno portato a termine oltre 38 milioni di attacchi phishing spacciandosi per i principali marketplace e raccomandano alcune regole di sicurezza. Controllare il mittente prima di aprire qualsiasi link o allegati ricevuti via email. Verificare i siti web degli e-commerce prima di compilare qualsiasi informazione. Verificare le recensioni prima di acquistare da un'azienda poco conosciuta. Accedere al proprio conto bancario online per verificare che tutte le transazioni siano legittime. A Valverde la Diocesi di Acireale ha celebrato la giornata mondiale della gioventù. Numerosi i giovani che hanno preso parte a questo evento. La Diocesi di Acireale ha celebrato la giornata mondiale della gioventù al santuario di Valverde. La celebrazione eucaristica, presieduta da Don Orazio Sciacca, direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile, ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da varie realtà diocesane impegnate nelle attività giovanili. Durante l'omelia, Don Sciacca ha ricordato che questo evento, pur legandosi alla dimensione mondiale che invita i giovani all'incontro con il Santo Padre, assume anche una dimensione diocesana, offrendo un'opportunità di confronto tra le comunità locali. La giornata mondiale della gioventù è dunque una festa che permette ai giovani di esprimere la loro appartenenza alla Chiesa e il loro credo. Nella sua riflessione, Don Orazio ha sottolineato la regalità di Cristo che si manifesta nella passione e racchiude un messaggio di amore universale. Quando definiamo Gesù come re dell'universo, ha spiegato, rischiamo di relegarlo a qualcosa di immenso e distante da noi. Tuttavia, l'essenza di questo termine è racchiusa proprio in quella parola, universo, che include ciascuno di noi. Gesù desidera essere il re del nostro universo, della nostra vita. Dopo la celebrazione eucaristica, i giovani si sono riuniti per condividere esperienze e confrontarsi. Ogni gruppo ha raccontato il proprio cammino di evangelizzazione e servizio, evidenziando sia le difficoltà che le conquiste. La giornata, in un clima di festa e fraternità, ha offerto un'occasione preziosa per rafforzare i legami e riflettere sul cammino di fede comune. La campagna di trasformazione del pomodoro 2024 chiude in calo, in calo, della produzione da nord a sud, a sud dovuto soprattutto all'emergenza siccità. La campagna di trasformazione del pomodoro 2024 in Italia si è chiusa con una produzione di 5,3 milioni di tonnellate, in leggera riduzione, meno 2,5%, rispetto al 2023, ma con una sostanziale flessione rispetto alle programmazioni fatte, in particolare nel bacino nord, nonostante un maggiore investimento in ettari a livello nazionale più 11% sul 2023. Lo comunica Anicav. L'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali sottolinea che è stata una campagna molto complessa con siccità a sud e sovrabbondanza di piogge al nord che hanno causato frequenti fermi fabbrica e allungato il periodo di lavorazione fino a inizio novembre. Il report di produzione registra che al centro-sud sono state trasformate 2,87 milioni di tonnellate, più 10% rispetto al 2023, mentre nel bacino nord il trasformato finale è stato di 2,4 milioni di tonnellate, meno 14% rispetto allo scorso anno. Tutto ciò nonostante, fa presente Anicav, l'incremento delle aree trapiantate rispetto alla scorsa campagna di trasformazione. L'Associazione segnala che l'Italia si conferma il terzo paese trasformatore di pomodoro a livello mondiale, dopo la Cina, che registra un incremento del 31% rispetto al 2023 e del 68% sul 2022, e gli Stati Uniti in calo del 14% sulla scorsa campagna. Quella appena conclusa, ha dichiarato Marco Serafini, presidente di Anicav, è stata una campagna molto complicata. Le problematiche legate alla gestione delle risorse idriche, in particolare, hanno avuto un importante impatto sull'andamento della campagna e se non si correrà ai ripari, la situazione sia al nord che al sud potrebbe, bene, ai prossimi anni, diventare insostenibile. C'è bisogno quindi di interventi infrastrutturali finalizzati all'efficientamento della filiera e a scongiurare i rischi legati all'emergenza idrica. La costruzione della diga di Vetto, nel bacino nord, e la creazione di un'opera infrastrutturale di collegamento tra la diga di Occhito, in provincia di Foggia, e quella del Liscione, in provincia di Campobasso, rappresenterebbero una prima importante risposta per il nostro settore. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, ma ovviamente ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. Grazie. 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 Grazie.